Vittor Valdez, 23 anni, studente di filosofia, viene da Madrid, dove è anche dirigente di Podemos, in particolare animatore del movimento studentesco e dei coordinamenti delle reti universitarie che stanno studiando una nuova legge per l'università. Buonasera Vittor, la Grecia vista dalla Spagna. Il presidente Sipras ha accusato il vostro premier, anche quello portoghese, di essere stati i maggiori avversari all'Eurogruppo. Nello stesso tempo sappiamo che l'esperienza di Siriza vi interessa moltissimo, visto che siete ancora in testa ai sondaggi. Certo, prima cosa, tante grazie per fare l'invito a spiegare la questione e l'iniziativa di Podemos in Italia e per me è stato un piacere. Sulla questione della Grecia, cosa dire? In realtà noi concepiamo questa opportunità del governo greco di Tsipras e di Siriza come un'opportunità, una finestra d'opportunità in cui sviluppare delle politiche internazionali contro l'austerity contro la Troica. D'altra parte è tanto vero che noi abbiamo visto questa trattativa di Varoufakis e il governo di Siriza con la Troica, con i poteri finanziari, come possiamo dire una situazione un tanto pericolosa. Perché? Perché noi concepiamo che uno contro 18, cioè la Grecia contro 18 stati dell'Europa, la Grecia alla fine è molto debole. In questo senso dobbiamo riprendere la via internazionalista per dimostrare la complicità, la solidarietà dalla Spagna, da Podemos e dai altri paesi con il popolo greco e con Siriza. D'altra parte capire che evidentemente Mariano Rajoy e il governo portoghese sono stati animatori del blocco contro Siriza precisamente perché sanno che Podemos è una spinta contro l'austerità e non vogliono far dimostrare che Siriza alla fine le sue proposte arrivano a capirsi come reali. Perciò noi crediamo che alla fine il governo di Mariano Rajoy è stato un blocco a queste negoziazioni e ha perso parte dalla Troica una volta in più. Senti, per noi in Italia era molto interessante questa vostra capacità di aver tradotto l'internità alle maree e all'indignazione, al grande movimento degli indignados e avergli saputo dare uno sbocco politico a sinistra, cosa che in Italia invece non è successo. Volevamo sapere a che punto è la mobilitazione sociale in questo momento nello Stato spagnolo, soprattutto alla luce di questa nuova legge di polizia particolarmente repressiva che è stata varata. Certo, questa legge si chiama la legge Mordafa, è una legge che loro dicono che sia la legge di sicurezza cittadina, in cui se prima le multe per la disobbedienza, per la mobilitazione sociale erano così grandi, adesso non si possono pagare, possiamo dire. In questo senso c'è un rapporto stretto tra Podemos e i movimenti. Questo rapporto secondo me è stato fondamentale per capire la possibilità di creare un strumento politico di massa come è stato Podemos e poi capire come le diverse mare per i servizi pubblici, che alla fine sono la garanzia dei diritti sociali, politici e economici. D'altra parte il coordinamento delle marci della dignità che un'altra volta scenderanno in piazza il 21 marzo contro le politiche di austerity e la precarietà e tantissimi conflitti sociali, lavorali e politici che si hanno dato questi quattro scorsi anni di lotta in Spagna sono la spinta fondamentale per capire che Podemos non è stata, possiamo dire, non è accaduta dal cielo ma è stata una parte fondamentale di strumento per rilanciare queste lotte. Adesso come si sta costruendo Podemos? Voi avete avuto un congresso abbastanza difficile in qualche modo, nel senso che è stato un congresso di fondazione, c'è stata una dialettica molto accesa tra una minoranza e una maggioranza. A che punto è la vostra costruzione? Sappiamo che ogni settimana ci sono delle riunioni reali tra militanti in carne e ossa e che poi c'è anche una grande attività in rete, sappiamo che ci sono anche dei punti di contatto e dei punti di contrasto con Ischiarda Unita. Allora, questa è una questione che non è così facile perché è ancora svolgendosi una politica unitaria in questo senso, però noi dobbiamo dire che principalmente ci sono due dimensioni, quelle che sono state importanti in Podemos, la questione di la mediazione tra le figure pubbliche e la base sociale di Podemos e d'altra parte possiamo dire la militanza politica che ogni giorno fa dei cortei, delle iniziative, fa tantissime cose nei quartieri eppure nei centri di lavoro e di studio. In questo senso è importante capire che noi ci incontriamo tantissime volte con diversi partiti della sinistra, non solo Ischiarda Unita ma fondamentalmente con altre sinistre indipendentiste sia ai Paesi Vaschi, Catalogna, Galizia, eccetera, però pure ci troviamo nei movimenti e questa è una questione fondamentale, per noi i movimenti sono la spinta fondamentale di Podemos e in questo senso Ischierda Unita è vero che siamo riusciti a capirsi tra Ischierda Unita e Podemos in diversi fasi politiche, però è vero che c'è un blocco che si è sviluppato dopo l'assemblea cittadina, se si si può, in relazione ai rapporti politici che Podemos ha con altre forze politiche, anzitutto perché abbiamo capito che per noi la metodologia e certe linee rosse sono fondamentali per costruire il progetto della unità popolare, in questo senso noi non siamo in rivalità con nessuna forza politica, però ovviamente abbiamo delle cose chiare, abbiamo delle cose chiare nel senso che noi sviluppiamo delle politiche che sono dal basso e per la gente, in questo senso con Ischierda Unita abbiamo avuto qualche problema, anzitutto pensando che Ischierda Unita fino a ieri è stata governando con il partito socialista a Andaluzia e il partito popolare a destra a Extremadura, sono due regioni, quindi per noi è molto difficile capire com'è fare una politica di intervento assieme quando queste forze politiche alla fine hanno tagliato, hanno applicato delle politiche di osterità morbida, però alla fine osterità. Quindi loro stanno governando a livello locale, ma a livello nazionale esistono dei contatti oppure in questo momento ciascuno sta costruendo se stesso? Penso a ciascuno si costruisce a se stesso, però tutti facciamo, possiamo dire, un intervento politico pubblico che rinvia oppure riguarda la costruzione dell'unità popolare attraverso il potere popolare, questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi non ci fermiamo nei processi elettorali, noi trattiamo di creare una politica dal basso per, possiamo dire, riprendere le istituzioni, porle a servizio della gente e allo stesso tempo rilanciare i piani di trasformazione sociale e questo senza le forze della sinistra organizzata è molto difficile. A parte noi crediamo che attraverso i documenti che sono stati votati all'Assemblea Ciudadana Si Puede è un po' difficile trovare i meccanismi per fare questo tipo di politiche perché noi abbiamo avuto una, possiamo dire, una sconfitta grossa all'Assemblea Ciudadana Si Se Puede perché alla fine il nostro documento non è stato il vincitore e noi pensavamo di creare una politica dei movimenti, infatti la nostra linea di organizzazione che noi pensavamo per Podemos non era il partito ma era un movimento socio-politico e qua c'è una differenza abbastanza forte tra il settore di Claro che Podemos e noi. Comunque continuiamo a diventare, continuiamo a costruire delle iniziative e continuiamo a praticare la politica per la gente e con la gente. Tu ti sei riferito a Claro che Podemos è la maggioranza dell'organizzazione, quindi quella che fa capo a Pablo Iglesias. L'ultima domanda, secondo te come si può valorizzare intanto il nostro legame europeo ma in generale come potrebbe essere utile l'internazionalismo nei confronti sia di Siriza sia di Podemos? Allora noi crediamo che l'internazionalismo tale come noi lo abbiamo conosciuto in realtà rimane un po' fuori dell'aspettativa che dobbiamo sviluppare per ricreare una connessione internazionale di politica contro l'osterità. Questo vuol dire che noi non abbandoniamo la via internazionalista ma dobbiamo ragionare in altri termini per capire come se i poteri finanziari alla fine sono quelli che hanno governato e governano l'Unione Europea. Per forza dobbiamo creare delle connessioni tra il nord e la periferia dell'Europa, non soltanto la Grecia ma il Portogallo, Irlanda, Italia giocano un ruolo fondamentale per poi sviluppare una politica più larga, un senso più largo di creazione di queste connessioni che ci permettano a noi nel sud e pure ai paesi, ai popoli del nord dell'Europa di fare fronte all'austerità e alla troica. Grazie Victor, speriamo di rivederci presto e sviluppare ancora questi temi.